Non c'è stato proprio niente tra me e te Che non c'è stato proprio niente tra me e te E poi si sa, è triste andare via Lasciare casa mia per non vederti più Eros, quanti anni hai? 17 Scuola? No, scuola fino alla terza media Poi ho lasciato perdere per studiare la chitarra Che cosa sei venuto a cercare a Castrocaro? Io l'ho fatto soprattutto perché volevo fare qualcosa di nuovo Diciamo... Ma che cosa ti aspetti? Un contratto discografico Per avere che cosa poi? Per avere un futuro migliore Chiamiamo innanzitutto tutti i concorrenti Di questa sera qui con noi alle nostre spalle Eccoli qua Sicuro che suo figlio ce la farà? Non lo so Se ce la mette tutta può darsi Lui ha lasciato la scuola mi ha detto per la chitarra Se non ce la fa che succede? E dovrà tornare a scuola Vincono a pari merito la ventitresima edizione del concorso Voci nuove Talent Scout 1981 Castrocaro Terme I cantanti Marina Fiordaliso e Zucchero Fornaciari Boate di Polo Boate di Polo Che hai fatto le carte Che hai fatto le carte E c'eri tu Che cosa ti aspetti? Eh mi aspetto Quello che Che si aspettano tutti Credo Adesso con Castrocaro Sanremo Non mi aspetto